Vomani è il compleanno della mia bambina e io non posso esserci. Ti avevo sperato fino a ultimo. L'ultimo giorno in questo posto c'è questo senso, in questo silenzio. Mi sta creando il film. Se la fai? Che ora ti ha preso? La storia ne diceva che gli attori sono pregati per aspettare. Le mie tante facce. Quante sono? 39. 39. 39. 39. 40. 40. 40. 41. 42. Grazie a tutti